Il nostro paese deve attuare alcuni passaggi di grande valore che vengono definiti come transizioni. Una di queste è quella 4.0 riferita a processi di innovazione tecnologica e digitale. Il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, per alimentare interesse degli imprenditori ha previsto anche un credito di imposta fino al 50%. Vengono considerati della categoria 4.0 apparati come autoclavi, con sensori per il controllo della temperatura, pressione e livello, oppure apparati di linea come imbottigliatrici, incartonatrici, etichettatrici, impianti di logistica di magazzino e anche gli strumenti utili a processo produttivo che siano dotati di una qualunque forma di automazione. Di questa opportunità si stanno interessando anche aziende che producono software che devono garantire un'altra condizione che è quella della interazione del nuovo macchinario 4.0 acquistato con il sistema di fabbrica.